Ti lascio la libertà di parlare. Chi mi dovrebbe? Tante signora, vi dico francamente, è ostre maniere una gradizione. E trovo assai goffo di andare a dare sigaro di guinda e di gullanda come può fare sempre. Cosa? Buongiorno, ci attacchi mostacchi alla prima afflizione che ci abbia. Corrinunziamo per quella al mondo e non aveva più sguardo per Nimo. Una bella cosa. Adesso è morto d'acqua. Adesso è morto d'acqua. Adesso è morto d'acqua per tutte le bellezze che ci buono colpisci l'occhio. E no, che no. Adesso è morto tutte le belle da maggiolacchi. E la fortuna è scontrata prima. Uno deve rubare le bellezze e le predenzioni giuste che tutti hanno sopra i nostri gori. In quanto a me... Mi incontra la bellezza. In dove va a scontro. Adesso è che sei ingaggiato. L'amore caggia per una bella. Un'ingaggia amica amore anima a fare ingiusti assorti all'asce. Un po' su rigusa un mugore a tutto ciò che avevo amabile. e appena un bel uvise mi umonda se ne avessi cento umila e mi dava a tutti. Grazie. Grazie.